La pace dei Santi sia con voi. Domenica 3 aprile 2016 la Chiesa celebra la Domenica in Albis Depositis o Seconda Domenica di Pasqua, che è stata dedicata alla devozione della Divina Misericordia da San Giovanni Paolo II. Il 3 aprile la Chiesa celebra la memoria di San Riccardo di Cicester, Vescovo. Riccardo nacque da modesti proprietari terrieri. Fu un uomo di grande carità, pieno di comprensione e particolarmente sensibile per le sofferenze dei malati e degli anziani. Si battè per il celibato del clero, per l'amministrazione gratuita dei sacramenti e perché la celebrazione eucaristica fosse celebrata in condizioni dignitose. Si ammalò gravemente a Dover, mentre si adoperava per costruire una chiesa in questa città in onore del suo vecchio maestro Edmondo Ricci e poco dopo morì. San Riccardo è venerato come patrono dei cocchieri perché, quando lavorava nella fattoria paterna, guidava carri e cavalli. Buon onomastico a tutti coloro che portano il nome di San Riccardo ed auguri a quanti il 3 aprile festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.